musica allora qui davanti a me caro Davide ho la prova provata che voi sul generale Vannacci vi sbagliate tutti facciamo partire dei file per favore dei file di un recente incontro clamoroso a una delle presentazioni del generale Vannacci una delle più controverse ultimamente dove ha parlato di tante cose del libro delle gonu eh di quello con la gonna di Mengoni con la gonna c'era Silvi Lubamba vai regia eh buonasera generale sono felicissima di essere qui e di incontrare di persona io sono di carnagione scura come può notare nata e cresciuta a Firenze da genitori congolesi e sono venuta a suo sostegno la signora è una cittadina italiana vero? Non abbiamo tutti le stesse abitudini eppure ne abbiamo fieri non abbiamo tutti lo stesso colore della pelle Silvi Lubamba applausi applausi buonasera a tutti i radioscoltatori di radio ventiquattro non c'è bisogno non c'è prega un cazzo di queste cose qua che fa buonasera buongiorno posso dire io ho una buona educazione ma è una svalvolata di primo livello ma che c'è perché giudichi le persone se sono svalvolate o no? La conosco benissimo una simpaticissima svalvolata già leghisto della prima ora poi fratelli sorellina d'italia credo ora dice ma quale sono le linee d'Italia? Ma no è una simpaticissima svalvolata ma di primissimo livello primissimo l'importante è essere di primissimo livello però scusi signora Lubamba lei non si è sentito offesa dunque quelle parole per quelle parole del generale su Paolo Egonu no se uno avesse detto se uno avesse detto anche se Silvi Lubamba è italiana di cittadinanza e tu sei italiana di cittadinanza si appunto è nata e cresciuta a Firenze hai frequentato anche le padri galere più italiana di te di te non può essere nessuno dipendente del ministero della giustizia quindi esatto dipendente diciamo protemporo del ministero della giustizia io lavoravo in cucina quindi lavoravo in cucina quando eri in galera però non eri dipendente per dipendente per modo di dire italiana di cittadinanza è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità che si può invece scorgere eccetera dunque tu non hai tratti somatici in italiano lo riconosci ha ragione vannacci quando dice questo ma ha perfettamente ragione io pur essendo nata a Firenze sì da genitori congolesi non ho i tratti somatici caucasici ma ce li ho negroidi perché appartengo all'etnia negroide va bene e quindi ha ragione ha ragione vannacci dove l'offesa cioè ha perfettamente ragione hai tratti negroidi cioè si può dire tranquillamente che sei negra sono negra e l'ho detto anche nelle varie trasmissioni che erano presenti alla presentazione del libro venerdì primo marzo non c'è bisogno di ripetere adesso venerdì primo marzo lo sappiamo dunque un'altra delle frasi per cui è sotto accusa il generale vannacci parenzo spesso si concentra su questa cosa è il fatto che il generale vannacci quando era ragazzino si avvicinò dentro la metropolitana di parigi a una piccola persona di colore e accarezzava la pelle adesso musica leggera per fuori musica molto ma ero un bambino ero brava bellissima stai dicendo tutto quello che dico io sempre bene avvicini la sua mano al sottoscritto sto toccando la pelle la pelle negroide la pelle scusatemi ma la lubamba ha pagato 30 euro per vedere il generale vannacci no io non ho pagato 30 euro ero ospite ah ecco fessi quelli che hanno pagato brava almeno su questo brava lei pensa di avere un tratto anche di pelle diverso da quello un po rugoso eccetera diverso da quello mio diverso da quello di un italiano diciamo di prima generazione ma un po rugoso perché comunque a milano fa freddo e lei pensa di avere la pelle uguale a quella di un italiano classico tradizionale rispetto anche a quella di vannacci o no sta parlando della mia pelle della sua pelle ce l'ho molto più bella sì d'accordo ma in generale la pelle di un ragazzo di colore diversa da quella di un ragazzo di un ragazzo italiano di un ragazzo bianco diciamo no ma in linea di massima no e dunque che immagine ha quella del generale vannacci che si avvicina a un bambino dentro la metropolitana e tocca per capire se la pelle è diversa quello di una curiosità di un bambino piccolo ma certo ma voglio dire è successo anche a me all'elementare a firenza lei voterà per il generale vannacci sia alle elementari che alle medie che alle superiori e alle elementari si avvicinavano i miei compagni di scuola e mi toccavano mi toccavano mi toccavano mi toccavano come ha fatto il generale vannacci in metropolitana niente di mi toccava mi toccavano insomma la manina anche il culo ti toccavano oddio quello alle medie e alle superiori alle medie e alle superiori mi toccavano il sedere il seno l'ultima volta che è venuta qua non c'è da ridere però disse che non faceva sesso da non so quanto tempo sì da quanto tempo ha continuato questo suo diciamo questa sua astinenza oppure è riuscita a trombare un intervallo di un mese perché avevo trovato un sardo come il generale vannacci che è di origine sarda ma no ho capito lei ha trombato per un mese e poi e poi ha ricominciato l'astinenza si è cominciata l'astinenza sì da qua dunque lei ha trombato però in questo periodo è riuscito a trombare per un mese sono riuscito a trombare per un mese sì diciamo che a natale ho ricevuto un regalo un regalo nel senso che un regalino una persona ha trovato una persona e quindi da tutte le festività natalizie fino a capodanno e oltre si sepa è finita ha rotto l'astinenza finalmente ha rotto l'astinenza che però è ricominciata a metà gennaio molto bene scusi allora lei voterà per vannacci se si candiderà nella sua circoscrizione oppure no oppure non gliene frega niente ma in realtà dunque ma lei che cazzo ci è andata a fare lì da vannacci per esibizionismo cioè diciamo la verità perché lei è un esibizionista c'è anche la foto col generale no in realtà non ci sono andata solo per esibizionismo sono andata anche per provocazione ah per questa cosa qua perché non ero d'accordo su ciò che sosteneva la enogu non ho capito si è egonu come cavolo si chiama paola no potrebbe essere anche quella è una grande atleta quella ha combinato qualcosa nella sua vita perché c'entra perché devi fare dei paragoni lei è stata anche sfortunata è stata una showgirl importante poi a un certo punto ha avuto dei problemi ma no ma io la rispetto moltissimo ma adesso fare la tirapiedi di vannacci mi sembra una cosa veramente no in realtà vannacci gira l'italia e dice guarda c'ho la negretta anch'io qui ma vi rendete conto del teatrino che state costruendo in realtà io tirapiedi di vannacci ancora no io mi sono candidata il generale no io non so come no ma non ha bisogno di una mia copertura avete visto c'ho anch'io la mia negretta qui che dice che non sono razzista come si chiamano questi negri è un'operazione vergognosa no ma allora dottor parenzo il generale il generale vannacci è una persona con i controcoglioni non ha bisogno di copertura glielo posso garantire a lei piace fisicamente anche il generale vannacci? si è una persona con un fisico asciutto è un nome affascinante se lo farebbe lei ha un eloquio affascinante se non fosse sposato se lo farebbe? se non fosse sposato se lo farebbe anche il generale vannacci? se non fosse sposato un giro sulla giostra lo farei molto bene grazie Rutto concludiamo vada se ne vada pure lei Rutto mi dica qualcosa mi dica qualcosa ancora non mi hai fatto il ruttino cioè io sono venuto qui per farti ruttare Giuseppe no non ce la faccio dai dai tappa il naso e provaci com'è? tappa il naso e degluttisci tante volte no non ce la faccio va bene alla prossima volta grazie Rutto Vibe grazie ciao fermi tutto grazie 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 grazie